Bentornati a Mente Panchina, il podcast che parla delle sfide mentali in campo, sempre i due conduttori Roberto, oggi ti presento per primo, ciao Roberto Breda, ciao. Ciao Gabriele, ciao a tutti. Io sono Gabriele Colombo, guardiamo le sfide mentali degli allenatori, le guardiamo dal mio punto di vista, ma soprattutto da chi in panchina c'è stato. Oggi parliamo di una cosa che non è sempre, cioè non è mai bella, mettiamola così, quando succede non è mai bella, poi vediamo magari gli sviluppi futuri di questo evento, parliamo di esoneri, del fatto di quando finisce l'avventura. Sì, appunto, direbbe l'argomento non è proprio il termine giusto, da dire però ce n'è tanto, perché sull'esonero, vabbè adesso usando un iperbole, esagerando, è un po' una morte, perché si chiude un'avventura e si chiude in maniera appunto brusca e negativa. Il problema dell'esonero è intanto come tu ci arrivi all'esonero, perché ci sono esoneri che un po' te li aspetti anche, che da certi punti di vista non dico che te li senti o che li cerchi, ma vedi che la situazione in effetti ha perso un po' il controllo e altri esoneri che li vivi invece come un'ingiustizia e questo è molto più dura, perché appunto ti tolgono da un percorso che senti tuo, e a me è capitato, ed è veramente una cosa che fai fatica ad accettare e fai anche fatica a metabolizzare, perché nel momento in cui non ti trovi delle colpe o ne trovi poche, anche se poi dopo diremo che secondo me bisogna sempre ugualmente trovare cosa potevi fare di diverso, in ogni caso lo vivi come un soppruso e come una grande ingiustizia e parte un pochino tutto da là, però purtroppo su questo possiamo farci poco, perché possiamo farci poco? Perché non decidiamo noi, noi possiamo far tutto quello che possiamo nel miglior dei modi, ma per mille motivi può essere qualcosa che sfugge al tuo controllo e che in questa maniera devi purtroppo solo subire. È vero che noi abbiamo in ogni caso una vita, siamo un po' come i gatti, perché moriamo e rinasciamo tante volte, questa è una grande cosa, rispetto ad altre figure, penso per esempio quando fallisce una società e in quel caso il presidente non rinasce, oppure già anche i direttori sportivi, anche loro hanno modo di riproporsi, di ricrearsi, però anche loro un pochino meno velocemente di noi, e noi abbiamo un ricircolo che nel bene e nel male ti tiene sempre con delle possibilità e con delle opportunità, però certamente l'esonero è un aspetto che è pesante, però come abbiamo detto tantissime volte, anche l'esonero può e deve anzi essere un momento di crescita. Sì qua è bello guardare, dal mio punto di vista ovviamente è bello guardarlo prima dell'esonero, quindi quando cominci a capire e quindi come ragionare per, qua bisogna capire, l'hai già detto te, se a volte puoi fare qualcosa, a volte no, spesso no, quindi lì ci sta, però per me per esempio l'atteggiamento mentale più interessante è sempre dopo l'esonero, cioè come rielaborare nella mente dell'allenatore quello che è successo, quello che è appena successo, tra l'altro siamo in un periodo dell'anno dove stanno per cominciare le prime parole attorno agli esoneri, c'è sempre il toto esonero, molti giornalisti si divertono, non capisco che divertimento abbiano, ma si divertono a pensare quale sarà il primo esonerato, quale sarà il primo, che poi è un gioco che può andare bene se sei al bar, a me sembra un po' un gioco al massacro a livello mediatico, però c'è anche questo e quindi bisogna cominciare a capire come stanno gli allenatori in questa fase, io partirei dal prima, partiamo dal prima, cioè cosa succede nella mente dell'allenatore quando cominciano a sentirsi le prime voci esterne, interne, i primi, se ci sono degli elementi magari anche nella tua carriera che hai notato che si ripetono, cioè quando c'è qualche elemento che dice ah cavolo comincia così, tra un po' arriverà cos'ha e poi arriverà cos'ha, io il primo elemento che ho notato è quando si comincia a parlare con frasi fatte, quando la dirigenza e l'ambiente intorno comincia a parlare con frasi fatte, ah non c'è preparazione fisica, ah non c'è grinta, cioè quando si comincia con le frasi fatte solitamente mi sembra che sta cominciando ad arrivare il, e dai siamo vicini, ci stiamo arrivando, prima o poi arriverà il capo espiatorio. Frasi fatte e luoghi comuni, perché quando iniziano a dirti sì però dovresti fare diverso questo, dovresti essere diverso, dovresti arrabbiarti di più, dovresti gridare di più e là divento un pochino matto perché allora ci sono degli aspetti che possono essere anche veramente di suggerimenti, però penso che suggerimenti siano più sul discorso campo, strategie, e là non trovi tante volte dei dirigenti che hanno queste competenze per dartelo, ma sul campo diventa, sul comportamento insomma diventa dura. Ma l'esempio più lampante in questo proprio tipo di come tante volte poi dopo vengono fuori tutti i luoghi comuni, me l'ha spiegato una volta Ancelotti che ha fatto una lezione di aggiornamento al master, noi come allenatori abbiamo come aggiornamento la giornata della panchina d'oro, cioè tu vai là a votare, voti i migliori della serie A, della serie B, della serie C ed è un momento per stare assieme e anche poi fai 3-4 ore di lezione dove spesso e volentieri l'intervento è di allenatori importanti che danno le proprie esperienze e ha parlato Ancelotti appunto di come lui che nel caso penso che qualcosa abbia vinto, quando le cose vanno un pochino male cominciano a dirgli sei troppo buono, ma su questo cioè e poi le vinco anche, ma perché deve sempre venire fuori sta cosa qua? E un pochino anche a me viene fuori sta cosa qua, sei troppo buono, però quando mi chiami che siete disperati, che tutto la vedi nera e io invece in ogni caso vedo un barlume, là non sono buono cioè diventano appunto situazioni particolari. Logico che noi allenatori dobbiamo filtrarle, un modo per filtrarle per esempio è non leggere niente, perché se leggi diventa veramente una tristezza sia perché ti condizionano o in ogni caso ti fanno star male e sia perché anche appunto, per un discorso anche di rapporti, cioè non posso leggere, magari tu mi scrivi un articolo dove appunto dici tra il mister rischia, il mister tra una settimana rischia di stare a casa e poi il giorno dopo quando vieni a rifarmi un'altra intervista dai tutto per naturale come fosse non successo niente. Io preferisco non sapere che mi hai scritto questo e ti tratto ugualmente come ti devo trattare, però è logico che non è semplice. La cosa che a me piace provare a fare è veramente concentrarmi sul campo e in ogni caso far sentire ai ragazzi che sono forti, che sono forti a prescindere da quello che succederà, perché può essere che tante volte tu quasi sembra che gli chiedi un aiuto, ma secondo me è sbagliato. Perché è sbagliato? Perché in ogni caso se sei quello che sempre deve mettere davanti il bene della squadra, bisogna andare avanti su questa strada, non devono giocare per il tuo bene, devono giocare per la squadra, per i risultati, per loro stesso, per venirne fuori. Nell'analisi del campo là è da capire se quello che tu stai facendo va bene, ha solo bisogno di ulteriore tempo sperando che te ne diano, o devi cambiare qualcosa, perché ci sono le volte che invece no, si vede che ti stai fissando su degli aspetti e forse quegli aspetti invece vanno rimodulati, vanno cambiati. E là non è facile perché avere la lucidità e anche l'oggettività di fare questa analisi non è semplice. Lì a livello comunicativo il tema che hai tirato fuori tu è fantastico, cioè spostare l'attenzione della squadra non su di te ma su il campo è il lavoro migliore. I discorsi comunicativi che ho sentito fare anche in conferenza stampa da bravi allenatori che a me piacciono sono stati proprio questi, non si parla di me, non si parla della mia panchina, che è un ottimo modo. Poi l'allenatore come dici spesso tu deve essere anche capace di togliere la pressione dai giocatori e metterla da altre parti perché poi il giocatore deve entrare in campo non con la spada di Damo, quelle che domani arrivano alto, devono ricominciare. Anche se poi da fuori i discorsi sono ingestibili. Torniamo sul discorso di cosa puoi gestire. Il campo, solo quello. Il campo, le relazioni con i tuoi giocatori. E in questo devi anche fare una cernita dei giocatori perché se in un gruppo di 30 persone ci può essere che 6, 7, anche 10, anche 12 magari sperano che tu te ne vada perché per loro riaumenta la possibilità di giocare. E devi un po' scegliere i cavalli. Non essere troppo chiuso, cioè non andare su simpatie, antipatie, ma guardare sul campo come lavorano, come si allenano, mantengono alto gli standard degli allenamenti. Ok, anche se mi è antipatico va bene. Oppure sulle partite ugualmente fanno quello che viene chiesto e secondo me là devi fare un pochino, fatti un tuo fortino e cercare di stringere con quelli che ti possono aiutare. Ma anche là non è che devi andaglielo a dire perché non è giusto perché poi si creano veramente poi dopo dei sottogruppi dentro la tua squadra e non va mai bene. Devi essere bravo a, in ogni caso, tra due giocatori capire qual è quello che ti può dare una mano. Però, a dià di questo, appunto, sono tanti aspetti che bisogna continuare a guardare rimanendo, se si può, che non è facile gli oggettivi. Logico che anche la gestione dei rapporti con la dirigenza, col presidente, con i direttori, in quel momento non è semplice perché hai tanti rischi. Hai il rischio di non ascoltarli e magari può essere visto come una chiusura. Hai il rischio di provare ad ascoltarli e magari vuol dire rinnegarle le tue idee e non va bene neanche quello. Quindi veramente devi filtrare quello che ti può essere utile e da là poi dopo cercare di farlo tuo e non farti prendere da voler accontentare nessuno ma allo stesso tempo da non voler chiudere a nessuno. Lì, guarda, il mio ruolo, qua faccio come al solito un piccolo sponsor, una piccola pubblicità per me, il mio ruolo è spesso utile. Mi sono accorto che con molti allenatori è stato utile. Cioè poter permettere all'allenatore di distaccarsi dalle emozioni, quindi imparare a gestire le emozioni in maniera diversa, che poi è parte dell'atteggiamento mentale vincente, secondo me è fondamentale. In questo, per esempio, mi capita e mi è capitato spesso in fuoristagione, quindi in off-season, di lavorare con gli allenatori sulla gestione dell'emozione. Cioè lontano dalla fatica emotiva, secondo me è corretto che un allenatore alleni proprio la sua capacità di gestire le difficoltà emotive, anche nelle piccole cose di casa, cioè anche nel essere consapevole di quando arriva la rabbia, di quando puoi gestirla, di quando sei capace, cioè di capire e essere consapevole di come sono le tue emozioni, perché altrimenti se ti fai guidare dalle emozioni, quando tutti intorno a te stanno parlando solo con la pancia, a mio parere non vai da nessuno. Cioè quando tutti parlano con la pancia, è il tuo cervello che invece deve funzionare più, più fortemente. E sono d'accordo che una persona esterna, come può essere un mental coach, dovrebbe essere, e spesso è così, l'unico che non ragiona di pancia e quindi l'unico che veramente può darti un occhio un pochino diverso. Deve essere uno che conosce in ogni caso le dinamiche, che conosce anche lo sport, perché ogni sport ha delle caratteristiche particolari, però certamente è un grande aiuto. Il lavoro sulle emozioni, sono d'accordo, è un lavoro che va fatto sempre. Ma quando torniamo a dire che l'allenatore deve lavorare su tanti aspetti, veramente ce ne sono tanti, dalle emozioni, ha proprio anche l'intensità nei rapporti, perché il rapporto con 30 ragazzi costante nel tempo ti richiede energia. Quindi tutto quello che ti prepara a essere meglio è di grande aiuto per la tua crescita. Il rapporto con una persona esterna che ha un occhio un po' diverso sicuramente è importante. Non ti darai suggerimenti tattici, ti darai suggerimenti sulla gestione, ma tanta roba, perché anche quelli tante volte c'è bisogno. L'emotività è un grande nemico da certi punti di vista, un grande alleato della tua però, delle tue energie, può essere un grande alleato, della tua energia, delle tue motivazioni, del tuo vivere l'ambiente. La capacità anche qua di trasformare le emozioni sempre in benzina nuova deve essere ricercata, anche nelle difficoltà, perché le difficoltà possono essere subite e possono essere sfida. Nella sfida riparto ad essere attivo e propositivo verso l'ambiente. Guarda, in questi giorni sto scrivendo una cosa proprio su questo tema delle sfide e c'è una piccola citazione da un libro che mi piace molto che dice che le sfide permettono di allineare il tuo comportamento alla tua autostima. Cioè, quando hai una sfida devi alzare il livello del tuo comportamento, perché alzando il livello del tuo comportamento raggiungi e aumenti anche il livello della tua autostima. E l'autostima, quando sei in difficoltà, è praticamente quasi tutto, mettiamola così. È importante essere sicuri in quelle fasi. Quello che dicevi prima a te, non è che perché sono in difficoltà allora ascolto il direttore, ascolto il team manager, ascolto tutti, ascolto il tifoso, ascolto il giornalista. Devo essere sicuro delle mie idee e alzare però il livello. Cioè, la cosa interessante delle sfide è che ti devono far migliorare, altrimenti non sono sfide. Quindi lì ci sta la capacità di gestire anche l'errore, se c'è. E l'analisi deve essere molto, molto oggettiva. Credo che in quelle notti lì i pensieri siano veramente, veramente tanti. Cioè, c'è bisogno di tecnica, di metodo, di tranquillità, perché se stai dietro a tutto, nei giorni magari, magari perdi il sabato, rigiochi il lunedì dopo, per mille motivi, oppure c'è la pausa delle nazionali, giochi due settimane dopo, chissà quanti pensieri e quanta fatica a tenere dentro quelle emozioni. Tante, tante, tante notti veramente a far andare il cervello a 3.000 all'ora sempre. E là devi essere un pochino bravo a utilizzare il cervello, anche a spostarlo. Lo sposto su qualcosa che è emotivo o lo sposto su una risposta pratica a qualche problema. E già è diverso. Cioè, se io continuo a utilizzare il cervello perché sto male, perché appunto il presidente mi ha detto una cosa, o i tifosi, o ho visto qualcosa da parte dei ragazzi che non mi piaceva, è sempre un discorso emotivo che spreca energia. Se invece dico, no, ho preso gol, cosa posso cambiare? Già è una forma di reazione diversa e il cervello produce positività. Tornando al discorso dell'autostima, tutto quello che trasforma un subire in un reagire alza l'autostima. A prescindere dal livello basso che tu sei, nel momento in cui reagiamo, l'autostima si alza, perché non ti senti più succube e passivo, ma ti senti attivo a quello che ti sta capitando. Poi non è detto che subito trovi soluzioni, però ugualmente, cioè concentrarti su quello che tu puoi determinare, alza l'autostima. L'autostima è fondamentale e i ragazzi la sentono. Io avevo un altro allenatore, senza far nomi perché questo è già un discorso più delicato, che quando la squadra andava bene, la sentivi l'energia, era un vulcano, nelle difficoltà erano sotto il tappetino e lo respiravamo. Eravamo noi a dire, mister, ma non devi stare così. Ma non è, però, quando è il massimo. Quindi bisogna invece trovare sempre la possibilità di essere positivi. Un metodo, secondo me, che può essere d'aiuto è quello della scala dei valori. È più importante il mio lavoro o la mia crescita personale? Se il lavoro è soprattutto, i problemi del lavoro coprono tutto. Se invece metto davanti, sopra la mia crescita personale, il lavoro diventa uno strumento, che sicuramente è importantissimo. Però diventa sotto la mia crescita personale. E anche nella peggiore delle ipotesi, la mia crescita personale ha un qualcosa e quindi la riesco a vedere in maniera positiva. Poi, logico, si spera sempre di non essere costretti a avere questo tipo di crescita, però ci sono e nell'esserci portiamo a casa qualcosa. Perché nelle nostre esperienze successive, quel percorso, quel tipo di atteggiamento ci porterà sicuramente un vantaggio. Perché vedo anche tanti miei colleghi che dopo due o tre anni di battoste, cosa succede? Diventano quasi, vedi i fantasmi dappertutto, vedi i nemici dappertutto e ti rivivi, anche quando ancora non ci sono, situazioni che ti hanno messo in difficoltà. È un pochino, tornando a un termine tecnico, la profezia che si autovera, cioè te le cerchi quasi. E invece tu devi far sì che quel percorso sia stato chiuso, devi sempre ripartire con la massima fiducia in tutti quanti, con l'ottimismo e poi dopo, in ogni caso, avrai i campanelli d'allarme se arriveranno e devi leggerli diversamente dal solito. Però devi essere bravo appunto a resettare ogni volta. Qui passiamo poi al momento in cui le cose finiscono veramente, cioè al momento in cui sei esonerato, perché poi fino a quando puoi far qualcosa, fai qualcosa, lavori come dici te. Poi c'è il momento in cui succede e lì c'è il percorso che stavi già accennando adesso, cioè non stare troppo su sentimenti negativi, fantasmi, cose che ti portano negatività. Secondo me per un po', per un periodo ci sta stare male. Io di questo sono sempre convinto. L'infelicità è quello che crea la felicità di domani. Cioè il fatto che tu oggi sei infeliciti alla forza per reagire. Però dopo un po' devi anche dire ok, basta, fare un quadro razionale di quello che è successo e ripartire ovviamente. Sì, devi star male e devi anche avere il tempo di somatizzare un po' tutto quanto e di farlo un pochino tuo, perché gli aspetti che sono andati male sicuramente saranno tanti e non solo di un tipo, dal punto di vista del campo, quindi della qualità del tuo lavoro, certamente qualcosa o ti è sfuggito o potevi farlo meglio. E poi l'altro aspetto è quello dei rapporti che potevi gestire diversamente. Io vedo gente, allenatori, che fanno male, 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 retrocedono ma non vengono esonerati. Quindi vuol dire che quelli sicuramente sul campo non hanno trovato la risposta, ma nella gestione sono stati bravissimi. E lo dico anche con invidia, però con apprezzamento di loro, perché riescono a portare avanti le situazioni e a crearle sempre, cioè a continuare a avere speranza in questa maniera. Però è vero che dopo devi aspettare un po' di tempo. Io, per esempio, non riesco mai a guardare le ultime partite prima di un esonno, c'ho bisogno di tanto tempo per tornare a guardare. Magari mi ributto su nuove apprendimenti, anche tattici. Cioè facevo un modulo? Facevo il 3-5-2? Ok, è finita questa, ma andiamo adesso a tutti i 3-5-2 del mondo e vediamo qualcosa di diverso. E da là non le rivedo le mie partite, però me le ricordo e abbino quello che potevo fare di meglio da quello che adesso so di più. È una maniera che da per essere sempre attivi e non subirle. Quello che sul campo mi ha creato difficoltà, cerco di superarlo con una maggiore conoscenza. Ed è un modo anche per vedere altre partite, per ritrovare anche l'entusiasmo del campo, perché tante volte quando tu vieni esonerato l'entusiasmo è basso. Quasi facevi fatica agli ultimi giorni andare al campo, ma non perché non ti piaccia, perché è il tuo lavoro, è la tua natura, però perché proprio l'aria era pesante. E quindi ritornare a vedere un campo ed essere entusiasta vedendo gli altri, vedendo certamente è un modo per riacquistare subito fiducia in quello che devi fare. E sul discorso dei rapporti là è un po' più lungo e da imparare sì e no, perché in ogni caso sì si può studiare, però poi dopo le dinamiche del campo nei rapporti sono sempre particolari, però certamente anche quello nel tempo devi farlo tuo e deve portarti un qualcosa, anche se poi non è facile perché la tua natura sui rapporti fa fatica a snaturarti, mentre un modulo è più facile da cambiare. Cambiare come io mi apporto a quelle persone è un pochino più complicato. E qui subentra ovviamente il mio contributo, nel senso che come dire, come puoi cambiare un modulo, puoi cambiare anche il tuo approccio alle persone. Anche come hai detto te, puoi perdere l'entusiasmo nei rapporti con le persone. Succede, tantissimi allenatori, giocatori, dirigenti, li noto che perdono fiducia nei rapporti con le persone. Già dopo poco dicono vabbè non ce la faccio, non funziona. Giusto stamattina stavo parlando con un allenatore che aveva già deciso che alcuni rapporti erano chiusi e allora lì aprire la mente a dire ok, il nostro cervello funziona sempre su quello che è stato, sulla memoria. Però tu puoi, sei anche capace di differenziare a volte cosa è uguale e cosa è diverso. E ovviamente un vincente secondo me guarda sempre le opportunità, mai le ripetizioni di cose negative. Se le vede deve anticipare, come se vedi che il 352 ha dei difetti, boh, in un elemento tattico che io non conosco. La stessa cosa è il mio cervello, probabilmente le mie capacità di creare relazioni, ha gli stessi difetti, che ne so come dicevi prima rapporti troppo intensi con i giocatori, mancanza di comunicazione con la dirigenza, magari ci sono, che ne so, succede spesso che un allenatore vede alcune cose e non le dice subito, aspetta un po' e dopo tutte le volte, dopo un po' diceva tutte le volte io aspetto, allora riduci il tempo tra quando le senti e quando le dici. Quindi anche lì è un periodo di attesa ma un periodo di apprendimento. Il consiglio che do sempre io, oltre a leggere, fare corsi, incontrare persone, vedere cose, è annotarsi, se possibile scritto, se no anche mentalmente, nelle relazioni di tutti i giorni le strategie che funzionano, con la moglie, col fidanzata, con l'amico, con la persona che trovi al bar. Cioè quando capisci che facendo una certa cosa la relazione funziona con una certa persona, secondo me è importante che te la ricordi come strategia. Che ne so, se uno mi parla poco e io parlando piano, stando tranquillo, riuscendo a essere, come dire, tranquillo, non entrando a gamba tesa, ma entrando piano, funziona, allora tienitela perché se troverai un dirigente che parla poco, userai quella strategia lì. Perché se no diventa difficile capire, le relazioni le alleni avendo relazioni, non ci sono altri modi. Il primo grande passaggio è non dire sono fatto così, perché quella è una pietra trombale sulla tua crescita e su ogni tipo di sviluppo e tante volte ti viene da pensarlo in ogni caso. L'altro passaggio è per passare invece alla frase ci sono tanti strumenti, cioè la comunicazione non è fatta solo di istintività, ma nell'essere se stessi, perché poi quello rimane alla base, è fatta anche di strumenti, come detto te, di capacità di leggere le differenze nei rapporti e non è così scontato e semplice, però è anche questo un tipo di obiettivo. Poi dopo, appunto, l'emotività tante volte ti toglie la lucidità di scegliere e ti porta magari a tornare alle tue vecchie abitudini e su quelle che affiorano più velocemente, però anche quello se tu lo vedi come un tipo di strategia, di percorso, di apprendimento, di crescita, certamente ti porta a dei grandi benefici. Io su certi punti di vista, aspetti, devo ancora migliorare tanto. Primo a dirlo, senza dire quali, perché non certo quei giocatori, perché quei giocatori mi trovo sempre bene, però da altri punti di vista devo migliorare. Però so che devo farlo e ci sto provando, non è che non ci sto provando. Poi dopo il nostro è un ambiente che tante volte tu me l'hai insegnato l'altra volta. Bisogna ricordarci due o tre aspetti. Una, con chi abbiamo a che fare? Con la persona razionale, col sognatore o col negativo? E questo è già un grande passo iniziale, perché il sognatore non bisogna mai spegnerlo. E se mi ricordo che il presidente al 99,9% è un sognatore, perché sennò non farebbe il presidente, perché chi investe i soldi sul calcio, oltre a tutto il resto, è un grande sognatore. E questo va ricordato. Come il discorso dei tifosi. I tifosi sono sognatori, giustamente anche. Poi c'è il sognatore anche pessimista, poi ci sono le figure intermedie, però già questo è un grande aspetto. E quindi da quando me l'hai detto, sto concetto di non catalogare, perché è brutto dire così di una persona, ma capire le inclinazioni già è un grande vantaggio, perché ti dà già uno spunto di vista. E su questo poi dopo ci sono tanti e vari aspetti che vanno appunto interpretati. Io consiglio sempre di allenare la capacità di osservare e di ascoltare, per imparare a comunicare e a capire anche cosa sta cambiando intorno a te. Devi allenare tanto la tua capacità di osservare le persone. Io un gioco che faccio ogni tanto quando ho tempo, mi siedo in mezzo a una piazza e guardo le persone e mi faccio i miei viaggi su che vita fanno. So che sembro matto, ma mi piace anche fare questa roba. Però è proprio quello. Allenare anche l'ascolto. Stupidata. Figli, ne abbiamo tutte e due, adolescenti o più grandi o più piccoli. A volte ti parlano i tuoi mille pensieri, ascolti una cosa sì e una cosa no. Come loro ascoltano una cosa sì e una cosa no. Ecco, io magari il trucco che do agli allenatori è dedica veramente dieci minuti ad ascoltare nella maniera migliore possibile tuo figlio, tua figlia e capisci bene cosa ti sta dicendo. Non fare domande, non fare niente. Ascolta e basta. E poi quando è finito dici ok, va bene. E stai attento. Quindi, come dire, allenare l'ascolto lo puoi fare solo semplicemente ascoltando. Allenare il parlare, lo puoi fare solo semplicemente parlando. E quindi diventano dei piccoli allenamenti stupidi, nel senso che non è che c'è una prova o chissà cosa, però poi ti servirà perché magari se devi ascoltare, come dicevi te, il sognatore presidente, dirai ah cavolo, questo è un sognatore, non gli devo mettere delle critiche, lo devo alimentare, devo dargli determinate visioni, devo vederla come lui. E magari invece con un critico devi stare attento perché sai che le critiche non dipendono da te, ma dipendono dal loro punto di vista. Quindi osservare, ascoltare, tutto quello che è un po' passivo, che un allenatore quando è in carica non deve fare. L'allenatore secondo me quando è in carica non deve fare. Quando è fuori forse potrebbe essere un modo per allenarsi, a migliorare le emozioni. L'altra cosa che aggiungo, scusa, mi stavo dimenticando, importantissima, c'è questa tecnica della consapevolezza non giudicante. Altra cosa interessantissima. Quando osservi e ascolti e noti che dentro di te nascono delle emozioni, prima cosa da fare è osservarla come se fossi una persona fuori da te e allenarti a tenere lontano l'emozione forte, ma senza giudicarla. Quindi sto per arrabbiarmi. Ok dai, sto per arrabbiarmi. Questa cosa mi sta facendo un po' arrabbiare. E continuare a raccontare come fare la telecronaca delle tue emozioni senza giudicarle, perché a volte ci arrabbiamo perché ci stiamo arrabbiando. Cioè mi sto per arrabbiare con mia figlia e dentro dico cazzo ma non mi devo arrabbiare. Ah no ma non mi devo arrabbiare, non mi devo arrabbiare e bam e dopo esplodi. Però è importante osservare le proprie emozioni senza giudicarle. Sì, stavo dicendo una cosa che è anche un po' collegata e sono tutte due cose che partono dagli automatismi che abbiamo dentro di noi. Cosa stavo dicendo io? Tante volte tu quando parli con una persona, un figlio, ma non solo, anche un presidente, un direttore, un giocatore, tu pensi già di sapere cosa sta dicendo e invece è il discorso delle emozioni. Prova a metterti invece in discussione e non partire con questo già preconcetto e farlo e metterti nei panni suoi e dire ok, quello che stai dicendo vuoi veramente ascoltarlo come da un occhio con un orecchio diverso dal solito. E sono le stesse cose, cioè andare a lavorare sugli automatismi e suspegnerli un pochino, cioè non dire tanto so già cosa mi dice, oppure no, tanto questa cosa mi fa sempre arrabbiare, cioè andare un pochino a sempre a resettare, però abbiamo qua il livello alto, però se torniamo a parlare del percorso come persona, noi dobbiamo puntare all'alto, dobbiamo puntare ai livelli più alti possibili che ci siano. Anche perché poi quando ti faranno le critiche della prossima esperienza, ti diranno che sei troppo buono, tu non dirai ma cosa state dicendo, penserai ok questa è una parte del mio carattere, sono buono, ma ho anche un'altra parte del mio carattere, quando mi incazzo mi incazzo, cioè puoi anche far vedere cose diverse. Io parlavi prima di Ancelotti ma anche tanti altri allenatori molto bravi, i migliori che vedo sono quelli che anche come persone hanno lavorato tanto su di loro, sono cresciute come persone, anche a livelli bassi, cioè non per forza serie A, serie B, serie C, anche eccellenza, promozione, magari sai il classico allenatore che allena nella sua zona, non si vuole spostare troppo, ma è cresciuto molto emotivamente, anche proprio di capacità di empatizzare con le persone, con i dirigenti come con il ragazzino della primavera, quindi è molto importante questa cosa, curare la propria emotività perché in caso di esonero tu devi essere capace poi di ripartire velocemente. Non so te, però sicuramente rimanere tanto senza panchina non aiuta. No, non aiuta, però fa parte del nostro mestiere, non puoi decidere quando lavorare e quando essere chiamato. Devi dare il massimo quando sei lì e poi dopo fa parte di tutto il contesto, però è sempre se già iniziamo a mettere davanti la persona, secondo aspetto a mettere davanti che in ogni caso, soprattutto chi lo fa come professionista, è un fortunato perché fa della propria passione un lavoro e quindi è anche di quello che sognava l'ha fatto diventare un lavoro. Sono tutti aspetti che poi ti fanno secondo me anche abbassare un pochino le emozioni e i momenti di fuori di testa, di ansie. È un bel lavoro proprio per questo. Io tante volte dico, e la gente non mi crede, che mi piace molto di più adesso che alleno prima che giocavo a calcio. Mi fanno come è possibile? Cioè hai fatto la Serie A. è diverso perché qua è veramente un lavoro dove intanto coinvolgi più persone, quindi ti senti anche più responsabile delle persone e dopo appunto le sfide che hai con te stesso sono sicuramente diverse e anche più affascinanti. Sul campo hai le tue abilità, poi dopo l'oggi con la tua personalità e tutto quanto, però ti aiutano le tue abilità. Quali le tue abilità? Sì, ci sono, ma sono più nascoste, più velate e diventa un pochino più difficile farle emergere o almeno sono più dentro anche loro al frullatore e quindi bisogna stare un pochino attento. Però appunto le negatività, gli esoneri, io sono convinto che sono stati dei grandi momenti di crescita. Poi su certe cose sono rimasto uguale e ci devo ancora lavorare. Su altre cose dopo quegli step sono diventato uno diverso e quindi questo sicuramente devo anche ringraziare quello che è successo e quello che ho passato. Ti faccio una domanda, poi siamo in conclusione come al solito, perché mentre parlavi mi chiedevo come funziona il supporto dello staff, abbiamo parlato del mental coach e cosa può fare però anche del tuo staff. Se il tuo staff ovviamente viene esonerato con te, invece se diversamente rimane lì no. Però se c'è proprio tutto lo staff esonerato, come funziona anche tra di voi un po' questo momento. Non è facile perché poi dopo anche loro la vivono come un'ingiustizia, anche loro hanno le proprie interpretazioni, il proprio modo di viverla. Quindi non è che da questo punto di vista ci si può aiutare. Ognuno deve sommatizzare un pochino il suo e il mio compito è, se possibile, cercare, non dico di dirgli no, dovevamo far meglio questo perché sembra un'accusa a quello che hanno fatto e non è giusto. Però certamente dargli anche una chiave un pochino più oggettiva, secondo me dire. E rapportare il tutto abbiamo sbagliato come staff, non dico sul campo, a volte anche sul campo perché può anche essere che è sbagliato sul campo, ma abbiamo sbagliato in generale noi e forse dovevamo far diversamente. Cioè lasciare anche a loro, perché tante volte io che i miei collaboratori hanno veramente ancora di più difficoltà a oggettivizzare tutto quanto e hanno un grosso impatto emotivo. Quindi devo lasciarglielo, perché è giusto così, come ce l'ho io, non è che io non ce l'ho, però devo iniziare a buttargli dentro qualche riflessione. Perché come tutti noi, quando siamo nella merda, usiamo questo termine. Poi dopo il cervello dietro fa delle riflessioni che quando non sei nella merda non fai. E quindi lo spunto bisogna buttarlo dentro tutti quanti. Poi anche là si tratta di aspettare un pochino. A volte abbiamo fatto delle vacanze assieme, a volte non ci siamo sentiti per mesi, a volte tantissime altre volte, però insomma è giusto così. Ebbè c'è un un livello poi di, come dire, di condivisione della fatica che non vuol dire che poi la fatica non c'è. C'è, magari riesci a condividere in alcuni momenti, altre volte secondo me è anche corretto che ci siano degli esoneri più importanti di altri o più dolorosi di altri. Cioè nella vita non è tutto uguale, quindi mi immagino che ci sia un esonero magari in una situazione dove dici guarda qua non ci potevo far proprio nulla e altri esoneri dove invece ci potevi fare qualcosa di più te, altri esoneri che sono in giù. Quindi oppure esoneri dove magari ci tenevi tanto. Mi vengono in mente alcuni casi del passato di allenatori che magari erano o ex giocatori o tifosi o giocatori, cioè gente che si vedeva che ci teneva a quella squadra, essere esonerato, che ne so, per un romanista dalla Roma non è proprio una roba solo e unicamente, mi immagino che non sia una roba solo e unicamente professionale. A me il più brutto è stato quello a Perugia che ho fatto più fatica a somatizzare perché entro che sono veramente disperati, zona play out a ottobre, con una situazione pesantissima perché la partita prima di essere chiamato, oltre a perderla, i tifosi rompono il pulma, buttano un fumaggio dentro, si incendia il pulma, quindi pensa che è stato d'animo dei ragazzi. Il presidente era in difficoltà, abbiamo un percorso importante, entro matematicamente nei play off la penultima giornata di campionato e mentre vado a casa mi ha ritelefonato e sei esonerato. Ma come, sono entrato nei play off e quindi fai fatica veramente a capirla, però dopo nel tempo ci siamo anche risentiti e vabbè, però logico che in quel momento diventa molto difficile e dici sì, ma cosa devo fare di diverso? Però anche là c'è sempre un discorso che dobbiamo trovare qualcosa di diverso. Io veramente faccio molto leva sul fatto di essere un privilegiato, ma non lo dico perché adesso voglio convincere qualcuno, ma perché veramente io vivo così. Ti faccio un esempio. Noi possiamo fare un paragone per esempio con un imprenditore. Un imprenditore, il fallimento per un imprenditore è come un nostro esonero. Il problema è che noi in una squadra l'anno dopo lo troviamo. Un imprenditore col fallimento ha perso soldi, tante volte non può manco riaprire l'attività. Quindi per quello ti dico, a di là di essere fortunati perché facciamo quello che ci piace, anche il tipo di dinamica della nostra vita ci permette di ripartire subito. Quindi bisogna viverla questa cosa, perché quando tu ti repudi fortunato, secondo me la gratitudine per quello che hai ti costringe a volerti ancora migliorare, ad essere all'altezza di quello che puoi fare. Perché la fortuna dice sì, ok, ma poi dopo ci va il percorso a fianco di miglioramento e di appunto essere all'altezza di quello che mi sta capitando. Quante volte nella vita, anche nello sport, dopo un anno, un atleta scompare, dopo magari una grande opportunità. Secondo me se iniziasse a pensare, ok, sono stato fortunato, ma devo andare a meritare questa fortuna, può essere un modo di portare ancora la strada verso un'ulteriore crescita. Guarda, la gratitudine è l'elemento naturale che abbiamo nel nostro cervello più forte per battere la depressione. Cioè proprio un antidepressivo naturale, perché quando sei grato scateni la serotonina nel tuo cervello e la serotonina è il primo elemento che mettono negli antidepressivi quando ti danno le pastiglie. Quindi è quello che hai detto te, come al solito, la chiusura perfetta della discussione, perché è quello. Cioè quando sei grato, quando guardi le cose belle, quando guardi le cose positive, il tuo cervello non può stare male e quindi se sta bene, ovviamente vede tutto in maniera diversa. Ieri un atleta mi diceva, mi chiedeva della legge dell'attrazione, eccetera, eccetera, e io gli facevo questo esempio. Quando ci siamo incontrati ed eri giù di morale, non vedevi le opportunità che avevi davanti. Quando hai cominciato a guardare le cose belle, insieme a me, ma anche per la tua forza, capacità, ti sei accorto che ce n'erano tante e le opportunità ti sembravano molto di più. Un po' come quando non sei fidanzato e sembra che nessuna ragazza ti vuole, appena ti fidanzi sembra che ti vogliono tutte. Io dicevo, le opportunità ci sono ovunque, è come le guardi tu. Quando sei grato, quando sei felice, quando sei sereno, ovviamente ne vedi di più. Questo lo vediamo in tutti i campi, ma veramente nelle piccole cose anche, la giornata storta dove ti sembra tutto negativo e magari era successa una roba che il giorno prima avresti detto che figata, ok? È sempre lì, lo sguardo, l'attenzione, quindi la gratitudine la teniamo come chiusura perfetta di questa puntata su una cosa negativa, perché siamo partiti dalla parte negativa, ma abbiamo chiuso con come trasformarlo in qualcosa di costruttivo. Sì, ti lascio a te la chiusura stavolta perché va benissimo, quindi è stata perfetta. Salutiamo tutti, alla prossima volta. Ciao a tutti. Guarda, sopra di te c'è il sito, quindi ricordiamo di andare, non lo riesco a vedere. Ok, grazie. C'è il sito così chi non l'ha visto può andare a vederlo e grazie per l'attenzione. Alla prossima. Grazie Gabriele, ciao a tutti.